Diego una sconfitta che è arrivata al termine di una partita combattuta dove siete sempre stati a inseguire siete riusciti a farlo e restare in partita andando anche in vantaggio nei primi due quarti poi nel terzo quarto c'è stato un po un blackout che vi ha messo tanti punti di distanza rispetto a Rieti ma sì siamo partiti bene alla fine nel terzo e quarto quarto Rieti è stata molto brava a metterci un po più il fisico addosso e lì non siamo riusciti a trovare il canestro e quindi abbiamo trovato un po di difficoltà e di conseguenza in difesa non siamo riusciti a fare a prendere quell'energia tale che ci consentisse poi di rimanere lì. Adesso l'ultima partita della fase orologio e poi i playoff tempo ce n'è però per ricaricare l'energia ma sì non siamo soddisfatti per queste due ultime partite io ci tengo a chiedere scusa da capitano al club al presidente allenatore compreso perché comunque non è da noi anche se in queste due partite ce l'abbiamo messa tutta non veniamo da un periodo facile ma siamo estremamente consapevoli che manca l'ultima partita del girone e poi iniziano i playoff quindi sicuramente ci sarà tanto lavoro da fare magari la pausa alla piccola pausa ci consenterà un po di avere il roster al completo e di riprendere il lavoro in un certo modo tutti insieme.